e vai e siamo di nuovo live ci siamo buongiorno molti buon dia a tutti ragazzi siamo siamo in diretta sul canale youtube della travel film school e oggi abbiamo il grandissimo enorme piacere di avere un amico e non che collaboratore non che non che documentarista non che collega che ci racconterà un po la sua esperienza si chiama daniele gangemi bergamasco o meglio della bergamasca come si dice ecco ciao simo buongiorno a tutti adesso vedo che stanno stiamo iniziando a diciamo prendere a prendere il via su youtube e su twitch e allora perché abbiamo invitato daniele intanto danni grazie che sia venuto che si che ha accettato questo invito in casa voi dell'invito assolutamente grazie preziosissima e daniele l'abbiamo invitato ed è il primo vero ospite della delle nostre live alla 3 della tra il film school perché è secondo me e secondo noi in realtà un esempio un esempio da seguire ma proprio di quelli che che ti dimostrano come il nostro lavoro è fatto non solo di abilità tecniche capacità eccetera ma anche di tantissima 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 perseveranza o sbaglio messo più mezzo vicino ti ho messo vicino a max in live che così fate vedere che il vostro lavoro è l'altezza è la steveranza fa perdere il lavoro stressante sono partito con i capelli sono arrivato a conclusione di tutto senza ecco sono scensi i capelli i capelli sono scensi erano quanti sono qua sono quarantena e adesso me li taglierò spero domani esattamente quindi daniele che ha realizzato un primo documentario diciamo così servizio documentario sulla val benbilla che poi ci racconterà meglio dove si trova che cos'è in dipende in maniera completamente indipendente cosa cosa significa che lui è appassionato del suo territorio gli piace il suo il posto dove vive si è si diverte a far le riprese nel tempo libero diciamo inizialmente ha iniziato a fare tutta una serie di racconti di materiale che sono serviti poi a costruire un documentario ed è riuscito un po applicando credo un po applicando i consigli della travel film school fa parte ha seguito un po di corsi e un po con la perseveranza di cui parlavo prima a raggiungere la redazione di gheo che ha deciso di credere nel suo progetto e alla fine è andato in onda pochissimo tempo fa e anzi posso dire anteprima credo che stai già lavorando e stiamo siamo già servo già in attesa sul secondo pezzo perché ho quindi grandissima figata e max ed emi ti hanno supportato diciamo in qualche modo a superare i primi ostacoli i primi ostacoli che si incontrano quando uno si scontra con la redazione con le consegne diciamo burocratiche della rai tecniche burocratiche della rai maxi aiutato nel collaudo tecnico per quanto riguarda la parte di video di video color eccetera e il buon emi si è occupato della parte di sound che come sappiamo tutti penso sia la cosa forse più complicata e delicata è quella che più spesso ci fa bocciare non per incapacità di emi ma proprio perché ci sono delle robe troppo complicate da risolvere l'audio l'audio spesso si è registrato male non può essere non c'è non c'è modo di dire di risolvere il progetto c'è un po parlando di partire con una classica domanda chi sei cosa fai da dove vieni e perché sei qua con noi tutta tua va bene grazie innanzitutto per l'invito perché appunto come dicevi sono partito con come iscritto alla travel poi c'è stata appunto questa notevole possibilità di collaborazione e aggiungerei oltre a max e a emi anche la tua figura nel senso che non so se ti ricordi nella fase in cui c'era comunque da gestire il contratto è io mi sono fatto giustamente avevo delle perplessità e tu sei stato così come dire illuminante anche su questioni riguardanti un po più la produzione beh grazie io sono modesto non mi sono non mi non ho detto niente tant'è che giusto per far capire l'uno non so se ti ricordi penso che l'hai memorizzata quell'email perché a fronte di una discussione sulla cifra e poi ti è arrivata la mia richiesta di dire ma l'iva inclusa non è inclusa cioè ero per far capire che all'inizio nel senso ci sono delle problematiche che ovviamente non si tengono non vengono tenute conto quindi inevitabile che sugli errori poi si imparano detto questo brevemente la mia formazione non c'è da dire molto nel senso che ho avuto questa mia ritengo una grande palestra che è stato la poter lavorare come montatore per i broadcast media sette e sky e quello per me è stato come dire un allenamento fondamentale perché mi ha permesso un po di concepire il linguaggio televisivo che secondo me è fondamentale nella misura in cui ti permette di come dire capire la grammatica di questo linguaggio e poi riutilizzarla in in altri contesti un po il discorso della prima live quella della volta scorsa no che abbiamo parlato appunto la differenza tra la grammatica del montaggio chiamiamola così da tra youtube e televisione invece che completamente sono due cose totalmente diverse sì c'è volgarmente per fare un esempio che ci ascolta basta vedere la durata di una panoramica in un contesto di reportage televisivo e paragonarla un prodotto di cuba cioè c'è un divario no c'è un esempio proprio banale e su questo ovviamente poter raccontare una storia siccome ripeto ho avuto questa fortuna di lavorare in tv in particolare diciamo mettere mano al montaggio dei tg in breve lì si andava a costruire una storia quindi è l'associazione tra linguaggio televisivo non fino a se stesso ma è veicolato alla costruzione adesso inglesismi storytelling ne facciamo anche meno però è proprio il raccontare una storia e da questo punto di vista diciamo che è un plematico perché io ho avuto sempre un'ammirazione fin da, ma non lo dico la realtà dei fatti fin dal periodo delle superiori io guardavo questi documentari e mi affascinavano il motivo qual era perché riuscivano ad andare in un luogo e raccontare poi delle storie cioè raccontavano il falegname e mi affascinava molto hai detto una roba pazzesca hai detto una cosa che sembra una banalità ma che è la cosa più complessa da trasmettere che è proprio quella di essere affascinati dai luoghi, da questi luoghi la prima cosa che uno deve fare è andare a vedere i posti che gli piacciono e soprattutto raccontare storie hai detto il concetto di raccontare storie è l'unico modo, è l'unica chiave per riuscire a fare quello che sei riuscito a fare tu e per poter poi effettivamente realizzare dei filmati professionali che siano di intrattenimento perché poi alla fine si vende intrattenimento facendo il nostro lavoro è un concetto ciclico quello di storia storytelling ritorna ogni volta che si parla di video è proprio la base, è l'unico modo per far sì che qualcuno stia a guardare il tuo prodotto fino alla fine ma infatti a tal proposito volevo chiederti tra l'altro non approfitto per dire a chi ci sta ascoltando di fare anche delle domande in chat così se avete curiosità su come Dani sia riuscito a realizzare questo documentario fatele pure noi le faremo a parte che anche Dani le legge e quello che volevo chiederti appunto tu hai lavorato con varie televisioni come Montatore, Detto, Sky, Rai, Mediaset quindi immagino che tu abbia comunque studiato anzi l'hai detto hai studiato un po' il linguaggio televisivo perché proprio Gheo? cioè nel momento in cui hai deciso di fare un documentario perché hai scelto proprio di fare un prodotto per Gheo? ed eventualmente se puoi anche raccontarci brevemente come sei entrato in contatto cioè come hai fatto a proporti? allora Gheo semplicemente perché appunto c'era questa fascinazione che avevo da parecchi anni guardavo spesso Gheo mi affascinavano molto i documentari e perché in quel target lì secondo me dal punto di vista televisivo mi scassi dirlo ma c'è ben poco di documentari di quel genere e raccontati soprattutto in quel modo perché si può fare un parallelo con altre tipologie di programmi senza fare nomi magari su altre Poscaio anche Mediaset no ma fai pure i nomi non ti preoccupare qua non siamo il primo legno anzi diciamo tutto quel che pensiamo non ti preoccupare lì secondo me non so ad esempio trasmissioni che vengono fatte sui borghi cioè lì è un innesto secondo me cioè è una contaminazione del linguaggio tra virgolette non dico di youtube o cinematografico in in un contesto televisivo cioè secondo me Gheo rimane uno dei delle poche trasmissioni prettamente televisive e con un linguaggio ben specifico cioè che poi è la fortuna è la fortuna per noi documentaristi perché quando l'offerta è così ben delineata a noi non rimane altro tra virgolette che concepirlo in quella maniera lì cioè nel mio percorso io ho avuto la possibilità di poterlo vendere ad altre televisioni ma in realtà mi chiedevano a volte delle modifiche a volte mi hanno detto ma qui l'immagine è sempre tutta fuoco nel senso non ci sono dei cambi di scena evidenti ma che cos'è che mi stavano contestando mi stavano proprio contestando tra virgolette quella tipologia di linguaggio per la quale io sentivo di aver creato il prodotto non so se magari sono stato un po' certo è chiaro nel senso tu comunque riassumendo hai studiato un po' il mercato televisivo hai visto che effettivamente Gheo è uno dei pochi contenitori di documentari in Italia hai studiato il suo linguaggio e hai deciso di creare un documentario ad hoc che avesse quello specifico linguaggio che viene richiesto da Gheo giusto assolutamente grazie per il ecco ma tra l'altro Daniele vorrei ritornare un attimo al discorso dello storytelling comunque delle storie a cui ti sei appassionato tu come le hai trovate queste storie hai avuto difficoltà hai dovuto cercare hai avuto qualcuno che ti che ti ha dato una mano che ti guidasse un po' diciamo che appunto da Bergamasco e appassionato di montagna mi capitava di andare spesso in giro per borghi per paesini di montagna e casualmente mi sono imbattuto in questo piccolo orco Catremerio che è appunto in Falbre in Villa e così parlando c'era un signore che stava raccontando la storia di questo paese e niente mi sono avvicinato ho chiesto a quel tempo ero proprio a digiuno di tutto nel senso che non non avevo creato nulla non c'era nulla di nulla semplicemente è nata una sorta di come si dice amore a prima vista con quella tipologia del luogo e dico caspita ma vale la pena raccontare questo luogo c'erano stati poi emigranti poi c'era una storia bellissima la persona che mi stava raccontando la storia del paese in realtà era il postino ok che per 40 anni col mulo ha portato la posta in quei luoghi quindi già quello per me era ha creato un voglio fare il documentario su di lui e qui e qui metto una parentesi quando non si non si fanno i conti con l'oste nel senso che io ero partito con l'idea di farlo su di lui avevo iniziato tutta una serie di pre-produzione poi sono arrivato davanti a lui e mi fanno io davanti io ti racconto tutto quello che vuoi tutto quello che facevo ma io dentro davanti alla camera non ci vado quindi ho dovuto cioè però è stata la tua guida diciamo esatto sì è stata sì indubbiamente è stata la mia guida mi ha permesso poi di entrare perché alla fine è fondamentale cioè trovare cioè si vuoi raccontare un luogo devono essere le persone a meno che tu non sia nato lì e quindi hai come dire una conoscenza dettata da il tuo passato se no hai bisogno di persone che ti portino all'interno se no rischi di fare come dire passatemi il termine il documentario turistico che voglio dire vai alla chiesa principale prendi la trattoria principale che magari ti rifila la trovata commerciale no specchietto per la nodule e tutto per chissà che cosa in realtà no bisogna entrare dentro in profondità e scoprire che magari cento metri più in là c'è una trattoria che fa ancora la polenta con il mais del mulino che a sua volta a fianco per dire certo quindi senti come è stato strutturato il processo di produzione cioè qui tu hai fatto tutta una prima parte di preproduzione diciamo in cui hai cercato le storie individuato che cosa che cosa raccontare poi una volta che avevi tutto quanto chiaro sei andato a filmare mirato oppure per dirla come diciamo noi se invece sei andato a cazzo di cane cioè ok vado in Valbrembilla vado lì filmo questo poi ah ok ho scoperto che c'è quest'altra cosa la filmo anche questa cioè era una cosa più studiata o un po' più opzionale YouTube mette i beep in automatico no eh non lo so no questo qua sarà l'ultima live che faremo esatto quindi evito di ripetere è andata esattamente così è andata nel senso che tra l'altro una cosa che non so se è capitato anche voi ma adesso sto migliorando molto e mi piacerebbe su questo condividere la vostra opinione cioè io sul primo documentario me lo dico proprio chiaro e tondo per incapacità di come dire avere la situazione sotto controllo ok io praticamente ho accumulato una quantità di materiale filmato che sulla Valbrembilla potrei fare l'archivio per per i posteri cioè il concetto qual è è che non avendo come dire la 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 sicurezza di dire io con questa ripresa porto a casa questa tipologia di di racconto io filmavo in eccesso col col il concetto di dire più ho sicuramente in quel di più c'è qualcosa di di buono che è la cosa scusa io metto le mani in faccia perché è una roba che è un errore gravissimo in realtà però è è condiviso io lo condivido ed è successo anche a noi per i viaggi a rallentatore mi ricordo il primo viaggio che ufficialmente facevamo per la Rai in Marocco abbiamo fatto qualcosa come due tere e mezzo di materiale considera che i viaggi a rallentatore che ogni episodio sono dieci minuti sono quattro episodi per ogni viaggio facevamo quando eravamo a regime 200 giga cioè quindi nel senso poi uno poi è ovvio che si collauda che deve testare deve capire cosa come muoversi però è è un errore normale con la differenza che tu hai sicuramente creato del materiale d'archivio probabilmente molto utile per la comunità locale a prescindere dal documento di Gheo col danno però per il buon Max nel senso che poi tutta quella roba ma che te la devi smazzare in montaggio quando te li trovi la prima stagione delle parti dei viaggi di rallentatore l'ho vista fino alla nausa l'abbiamo vista fino alla nausa infatti vedo qua un messaggio di Simo che scrive odio il marocco ma per questo motivo qua cioè perché poi anche Simo ha dovuto fare Simo è soccupato di prendere le immagini e metterle poi in stock e quindi veramente ha dovuto assorbirsi una miriade di materiale senti ho visto qua sto leggendo infatti Max scusa per non perdere il feed della chat volevo buttarvi sullo schermo questa domanda di Stefano se volete rispondo io ma almo velocissimo e questo è uno dei grandi ostacoli e una delle grandi cose che spesso ci vengono anche chieste perché terrorizza tutti i videomaker c'è la musica come tutti sappiamo più la musica è bella più il documentario viene bene è ovvio cioè se uno mette la musica di gente famosa è ovvio che tutta la produzione assume valore e quindi però c'è questo ostacolo di non sapere se si può utilizzare come utilizzarla cosa faccio se faccio un documentario e poi lo vendo allora che io sappia in questo momento non esiste una piattaforma online dove si possono controllare i diritti della musica rispondendo a questa domanda messa a posto in questo mondo però cosa succede? Molto spesso quando lavori su documentari come questi il tuo target di riferimento è il broadcast ovvero la tv ovvero Rai Sky Mediaset ZF Canal Plus cioè diciamo non solo in Italia anche all'estero le televisioni che potenzialmente possono comprarti questi documentari quando comprano questi documentari loro pagano i diritti della musica per cui tu metti pure la musica che vuoi anche c'è banalmente anche i Pink Floyd vuoi mettere i Pink Floyd mettili pure poi c'è tutta un'altra fila che tu documentarista produttore o distributore nel caso debba fare lo distributore ma solitamente filmmaker o il produttore che fanno questa trafilla che è consegnare alla redazione l'elenco dei brani che sono stati utilizzati ci sono dei moduli da compilare a seconda della tv e in questi moduli tu indichi proprio quanti secondi sono stati utilizzati per ogni singola canzone in questo modo chiunque acquisti e mandi in onda questo documentario sa che deve pagare i diritti di utilizzo ai Pink Floyd per 10 secondi o per 30 secondi o per un minuto e questo è chiaro che è un costo molto alto ma che è assorbito dal cliente finale dalla tv se tu dovessi farlo per un cliente privato che invece non sa come gestire questa roba e quindi sei tu che devi comprare i diritti allo stato attuale ti metti d'accordo con la casa discografica dei Pink Floyd che molto probabilmente a meno che tu non stai facendo una pubblicità per costa crociere che ha dei budget probabilmente illimitati allora è difficile che ti li diano o perlomeno spesso non vale la pena la gestione dei diritti il 90% della gestione dei diritti è data dai è tenuta dalla CI in questo momento dei diritti musicali per cui poi tutto tutta trafila viene poi gira tutto intorno al lab CI che poi li smaltisce li distribuisce ecocompensa o non ecocompensa ma questo è tutto un'altra live è tutta un'altra chiacchierata era solo per rispondere alla tua domanda non esiste in questo momento che io sappia una piattaforma se qualcuno la conosce una anzi me la dica subito perché mi salverebbe la vita pure a me sarebbe molto molto comodo tra l'altro vedo che abbiamo ancora qualche domanda ce n'è una per Ludovico da Easy Film che ci chiede cioè sta dicendo che sostanzialmente è verso la fine del suo lavoro per il suo primo documentario e chiede se sarebbe meglio metterlo su YouTube come vetrina o andare dritto verso le televisioni o proporlo qualcuno rispondo per la mia esperienza non metterlo su YouTube perché il documentario tu non vendi il documentario come anche Daniele ormai ha ben capito tu vendi i diritti di utilizzo di questo documentario per cui tutto ciò che ha valore non sono tanto le immagini sì che sono sicuramente importanti ma è l'esclusività del tuo contenuto oltre che alla qualità per cui se tu lo butti su YouTube è come se tu dicessi io cedo già i diritti free TV praticamente online a tutto il mondo e chiunque voglia vedere il documentario lo può vedere quindi se arriva la RAI domani che ti vuole comprare il documentario in esclusiva non può ti vuole comprare i diritti di utilizzo del documentario in esclusiva no non può più farlo perché tu l'hai già sprecati e tieni presente che i diritti TV sono i diritti più preziosi i diritti free TV per cui vuol dire sprecare tutta è quello il lavoro difficile cioè tu come produttore e filmmaker devi dedicare gran parte del tuo tempo e delle tue forze a raggiungere le redazioni che sono interessate a guardare il tuo prodotto e a comprarlo se non sei capace tu o non riesci tu devi affidarti a un agente o una casa di distribuzione che te lo possa fare facendo attenzione a prendere la persona l'agente giusto però è questo il trucco se tu lo metti su YouTube lo sprechi su YouTube puoi mettere un trailer che ti può aiutare a far conoscere il tuo documentario giusto però troviamo ancora un'altra domanda invece di Andrea Buonpane magari più rivolta a Daniele chiede qual è il budget indicativo per la produzione di un documentario tipo quello sulla Valbrenvilla o simili cioè più o meno quanto ti è costato andare a produrre un documentario del genere allora la cifra la dico non è un problema però mi piace fare è doveroso però fare una piccola introduzione nel senso che allora è un budget eccessivamente basso ok che farebbe non ridire il moretti di ventenne il problema qual è è che gestendo io la fase della scrittura dei testi delle riprese del montaggio audio capite bene che tolte il costo di noleggio della camera costo le spese di eventuale vito alloggio ma facendoli vicino non hanno anche quelle spese lì diciamo che entro i 1500 la produzione è già bella che coperta attenzione ti interrompo su una cosa che secondo me è molto importante da chiarire in questo momento questo è stato l'approccio di Daniele che gli è servito anche per aprire la porta a Gheo nel senso ci ha creduto doveva farlo ma tenete presente che quando fate un calcolo di un budget dovete calcolare anche il vostro tempo cioè voi non potete pensare di calcolare un budget senza calcolare il costo del vostro tempo siete voi liberi di decidere che il vostro tempo vale 5 euro l'ora 10 euro l'ora 50 euro l'ora o forfetto però se la produzione che costa 1500 e tutto il tuo tempo è a fondo perduto è una tua scelta soggettiva se vuoi farlo come imprenditore devi pensare che se quello lì è un mese di lavoro devi dire voglio 2000 euro voglio 50.000 euro a seconda di quello calcoli le tue spese chiaramente e il noleggio e l'attrezzatura e quelle robe lì ormai incidono relativamente poco se uno fa il filmmaker come noi cioè con attrezzatura relativamente semplice chiamiamo così scusa Dani ti ho interrotto ma era giustissimo anzi aggiungere anche una cosa che con i primi lavori cioè non si può tenere conto secondo me di un business plan perché è totalmente come dire sei fuori magia parliamoci chiaro cioè voglio dire se si va a conteggiare anche le ore perché perché ci sono imprevisti sia cioè io ho tenuto aperto il montaggio di quel documentario sembrava la sagrada famiglia non finiva mai ogni volta mettevi ogni volta mettevi un pezzettino una volta mettevi che poi anche qua mi piacerebbe fare cioè non so se condividete anche voi ma il nostro ambito è affetto non so da una roba ancestrale che è questo mito della perfezione che ci impedisce a volte di come dire di arrivare a un prodotto finito cioè io sono uscito diciamo da la fase ideale mettiamola così che era faccio il documentario sulle vabbere in villa che bella questa storia quando raccontare a vado all'export definitivo del documentario nel momento in cui ho messo da parte sto mito della perfezione cioè l'immagine deve essere eh no quello non mi va bene regolare i tre quarti no a mio avviso non se ne c'è la differenza tra chi fa e non fa e chi si svincola quel quel marchi in genio mentale almeno io l'ho vista così poi non so se non ho niente la cp proprio potremmo essere fratelli in questo da questo punto di vista come insegnare Neferretti a cazzo di cane no e senti allora c'è una domanda di Mirko che lui vuole fondamentalmente sapere come sei arrivato a Geo nel senso lui chiede dal momento che lavoravi in tv hai avuto contatti interni oppure invece ti sei proposto in qualche modo e come cosa si sentiresti di consigliare ma a questo punto credo che una risposta risponda a entrambe le domande cioè quindi come sei arrivato a Geo ma il discorso lavorativo è totalmente staccato ho seguito diciamo le linee guida che ha dato Ludone nei suoi corsi nel senso che le email le redazioni è tutta roba pubblica non ci sono ingegni di nessun tipo e quindi cioè però voglio dire quello che mi sarebbe sottolineare è che la forza non è tanto sì uno deve sapere poi dove inviarlo ma la forza è l'idea che uno andrà a raccontare e la sicurezza di dire questa tipologia di lavoro potrebbe andar bene per quella tipologia di mercato la forza è quella perché poi in fase finale se hai un po' di tenacia e qualcosa sblocchi e da qualche parte arrivi posso fare un esempio semplicissimo vengo da una come dire esperienza di lo dico chiaro e tondo ragazzi ho provato a rimpacchettare il documentario e venderlo all'estero lacrime e sangue caporetto è stato caporetto ma lo dico proprio con con totale ho investito dei soldi perché non è stata un'operazione che mi disse dovuto rifare lo speaker in inglese far tradurre il testo ok e terzo mettere i sottotitoli motivo del del fallimento è stato che la tipologia di durata non all'estero non cioè quei 30 minuti lì non sono né carne né pesce quindi dov'è l'errore o fai una serie allora sono da 30 minuti ma devi averne almeno 6 esatto è quello che è ma il problema dov'è? è stato mio l'errore cioè non posso adesso amputare imputare chi cioè voglio dire l'errore è stato mio da produttore tra virgolette di non considerare le richieste del mercato però gli errori si fanno sì esatto però tieni presente che è anche vero che uno queste cose le impara proprio sbattendo la faccia contro il muro come è successo a te come è successo a tutti noi e quindi in realtà tu sai che adesso hai un contenuto da 30 minuti sulla Val Brembilla hai un altro documentario da 30 minuti su qualche altra valle magari tra 3 anni hai 6 documentari di altre 3 valli potresti avere la serie molto classica documentaristica molto classica sulle valli del Bergamasco e magari non avrà uno strato cioè difficilmente approderà su Netflix però magari su qualche televisione locale o minore all'estero potrebbe benissimo essere piazzata ci sono delle case di distribuzione specializzate solo in vendita di contenuti diciamo un po' più semplici più locali come questo per esempio sì comunque hai sottolineato una cosa veramente molto molto importante cioè che bisogna studiare proprio il prodotto cioè ok che la mail pubblica e tu appunto hai scritto a quella mail lì però hai scritto mandando un prodotto che sapevi che avrebbe funzionato per quel contenitore perché forse l'errore più comune è dire ok io faccio un video lo mando a Gheo che magari gli piace no cioè se non è nel loro interesse se non rientra nei loro criteri è chiaro che probabilmente non ti rispondono neanche cioè sono interessati solo se il prodotto rispecchia appunto il contenitore che poi abbiamo una grande fortuna di questi tempi cioè la possibilità di andare tra virgolette a destrutturare un prodotto che può essere un documentario tutto lo prende in timeline e inizi e ragioni e dici cosa c'è sono in grado di fare questa panoramica però anche qui l'atteggiamento io purtroppo devo dirle cioè molte volte si tende a dire eh ma quello eh lo faccio anch'io eh ma tra il dire lo faccio anch'io e farlo effettivamente ci passa un mondo perché lo sapete meglio di me ritrovarsi di fronte a un paesaggio e dire eh adesso che ripresa fai tu l'avevi vista in timeline bellissima una bella panoramica innanzitutto devi definire per dire la semplicità un minimo di direzione della fotografia la luce e via dicendo poi devi fare il movimento in maniera fluida e quindi entra la tecnica e poi dire sì può andare bene può essere esaltivo per dire cioè molte volte si tende a io vedo questo questo atteggiamento di cioè in realtà no cioè il nostro comparto creativo deve essere cioè bisogna cimentarsi sul campo beh guarda Dani quello quello è il più grande lavoro di chi fa produzione di questo genere di cose qua cioè quando ti dicono ah vabbè ma hai fatto una bella ripresa sì però tu dovevi essere lì a farla quella ripresa cioè dovevi esserci cioè volevi fare il timelapse al tramonto in cima alla montagna beh beh ma devi andarci non è che arriva perché qualcuno la sola fa e quindi assolutamente questo è ti dico è la selezione naturale tra filmmaker documentaristici nel senso questo è solitamente uno di quei punti in cui veramente chi ce la fa fa come te che si alza la mattina all'albe e va in cima alla montagna a farsi il timelapse chi non ce la fa è colui che spesso si arrende alla seconda volta perché comunque quella roba lì è lavoro impegno tempo capacità pazienza arrivi su e piove è chiaro che hai buttato del tempo anzi devo dire che tu in Valbremilla nel tuo documentario spesso ci sono delle immagini anche se vogliamo grigie eccetera ma perché probabilmente è capitato che capiti il brutto tempo in quel caso lì se non vuoi buttare la giornata devi essere molto bravo a reinventarti soprattutto con la storia e i racconti quindi quello devo dire sei stato molto bravo mi piacerebbe passare un pochino la parola a Emi solo perché lui può essere una può darci queste informazioni sull'audio cioè un altro problema che noi riscontriamo spesso quando quando ci parliamo con gli altri filmmaker è che l'audio viene sempre messo un pochino in diciamo in secondo piano ma non per ormai tutti sanno che l'audio è importante però spesso viene gestito male e può andare bene per una live di youtube può andare bene per youtube può andare bene per qualsiasi cosa ma non spesso crea dei problemi se non ricordo male il tuo commentario della Valbremilla comunque qualche problemino di presa diretta ce l'ha avuto e questa è una roba su cui investire chiunque deve investire perché i problemini di presa diretta di audio sono dei problemoni in fase di collaudo trasmittibilità del contenuto in televisione pagamenti perché poi ti bloccano il collaudo ti bloccano ti boccano il collaudo ti bloccano i pagamenti per cui nel senso Emi su questo ha una delicatrice è l'unico che riesce a far capire forse molto meglio di me la delicatezza di questo aspetto applicato alla tua esperienza di Valbremilla volevo giusto fargli la domanda visto che ha parlato di tecniche di ripresa di come fare l'immagine di come comporla di come fare i movimenti volevo giusto chiedergli hai usato qualche accortezza tu Daniele per riprendere l'audio durante appunto queste riprese qua io mi ricordo sulla Valbremilla di audio in presa diretta ce n'è tanto c'è anche materiale messo dopo in post produzione su cui tra l'altro abbiamo avuto dei problemi assurdi tipo audio tranquillamente in stereo che ci hanno ci hanno invece poi detto che era in mono questa cosa Daniele non l'ho mai capita ma va bene noi facciamo così facciamo finta di niente però tu hai usato qualche accortezza in fase di ripresa o semplicemente avevi un microfono sulla camera esatto sì trattandosi poi di camere perché poi le sapevo utilizzare ai tempi le camcorder broadcast quello per i tg semplicemente un mezzo fucile penso si chiami che va collegato xlr con con la camera perfetto molto direzionale direzionale esatto quindi cioè ti stavi riprendendo l'uccellino ti prendeva accanto senza problemi sì assolutamente forse l'unico l'unica accortezza che bisogna avere in questa in queste situazioni e sono un po' i rumori i rumori ambientali che possono esserci tipo magari il vento se quando è forte che ti soffia direttamente sul microfono devi sapere che quella roba lì non la toglierai in post produzione rimarrà lì ti aspetterà non ti ho ancora detto ti aspetterà per i prossimi ho ripreso ragazzi ma lo racconto perché alla fine ci sta cioè sugli errori si impara episodio di transumanza cioè proprio con le vacche in alteggio giornata ventosissima ma una roba mai vista ovviamente io non porto il l'antivente però macello sono riascoltato quindi poi quello non so come riuscirai a racconterai e mi dirai se ci sarà la possibilità di proprio dire gli errori sono cioè bisogna il famoso ricitiamo il problem solving è fondante perché se ci facciamo prendere dagli ostacoli anche in fase di ripresa quante volte all'inizio è capitato che ho fatto una ripresa sempre a Catremerio di un signor anziano che era vissuto lì era migrato anzi non avevo registrato l'audio banalmente sono tornato a casa questo è un errore che capita quando non ascolti con le cuffie tu avevi le cuffie per esempio in quella situazione ma sì ma sai qual è stata la mia fregatura che ero concentrato sull'impostazione della volevo la perfezione volevo questa immagine proprio bella e non ho controllato l'audio proprio ti sei perso ti sei perso l'audio capita capita no lo sposto qua lui piuttosto che è cosa ho fatto sottovalutato guarda io sai come a me è successo anche tante volte alla fine l'ho risolto spendendo un po' di soldi ho risolto comprandomi uno di quei rod che si accendono automaticamente con la camera cioè quando accendi la camera stai riprendendo lui è già acceso si chiama rod video mic pro plus mi sembra col più da col più comunque ci saranno modelli nuovi più recenti rispetto al mio quella è stata la salvezza perché quando accendi la camera ti dimentichi il microfono e in più se il microfono è scarico inizia a lampeggiare questo è un piccolo accorgimento utile è chiaro che funziona nel direzionale che metti sulla camera non funziona sulle altre cose che devi guardare trasmettitore ricevitore però sul direzionale funziona bene e tra l'altro a scusa no dicevo solo magari per le interviste forse potrebbe essere meglio una piccola pulce qualcosa anche perché tendenzialmente la pulce va già a ripararsi dal vento da solo magari gliela metti sotto il colletto gliela nascondi sotto la maglietta non prende il vento prende la voce pulita e ti togli già tutti i problemi dei rumori soprattutto poi le pulci non hanno una grandissima capacità di ripresa molto spesso quindi funzionano anche bene per eliminare tutti i rumori circostanti molto spesso ti riprendono molto bene la voce e lasciano perdere gli uccellini il vento piuttosto che la fontana piuttosto che la macchina che passa o comunque rimangono talmente bassi che diventano trascurabili se posso guarda aggiungerei una cosa che personalmente le interviste momentaneamente le ho messe da parte perché c'è un fattore fondamentale che non bisogna sottovalutare che è la persona che è di fronte e questo è un dato che può essere talmente come dire un imprevisto variabile che dici aspetta dato che le mie tempistiche sono sempre molto ristrette io devo giocare sulla solidità di portare a casa il progetto non posso permettermi di questa è una tematica molto molto importante perché molto spesso si pensa che riprendere qualcuno del posto funzioni e basta in realtà devi avere qualcuno che innanzitutto che si presti a farlo perché non è detto che appunto le persone vogliano comparire come dicevi tu prima nel video però le persone devono anche funzionare in qualche maniera davanti guarda infatti infatti ti interrompo e questo mi collego al consiglio di prima che dava Daniele quando devi scrivere alla redazione prima conosci o che diceva Max prima conosci il programma quindi devi conoscere il programma ma la seconda cosa ho forse detto la prima conosci la tipologia di documentari più simile ai tuoi se voi andate a vedere i documentari che ci sono su Gheo vi faccio un esempio di quelli di non so Davide De Micheli sia Sessandro Rocca o altri documentaristi di Gheo che lavorano spesso con Gheo e che fanno filmati dove prevedono delle interviste molto spesso le interviste sono fighissime sono girate benissimo sono registrate da Dio la gente che fa l'intervista è brillante svicia ti dà un ritmo che non vedi lo vedi proprio che sono persone che hanno marcia in più questo richiede molto lavoro e del tempo questo lavoro chiaramente è anche frutto di una ricerca approfondita perché magari sono persone che conosci che vai prima a conoscere prima rompi il ghiaccio pubbliche reazioni magari diciamo sprechi un giorno solamente per per fare pubbliche reazioni quindi se uno vuole le interviste deve avere un approccio secondo me diverso proprio nella nella tipologia di prodotto che vuole realizzare se non vuoi realizzare le interviste fai come Daniele che secondo me è una scelta molto prudente e molto giusta se uno ha poco budget e poco tempo e se le persone che transitano nella sua storia non sono poi così necessarie alla racconta della storia e si fanno tante immagini di copertura raccontate molto bene con la voce narrante perché questa cosa funziona cioè si vede dal programma comunque spesso funziona se uno se non c'è il conduttore eccetera ti faccio ti giro questa domanda che non so se legge sul monitor che è sul monitor da un po' che ti chiedono cosa consigli riguardo all'attrezzatura ma anche qua bisogna bisogna eccessivamente creare dei miti sul discorso dell'attrezzatura io ho girato lo dico proprio chiaro e tondo con camera che erano fuori produzione ma non da un anno da 7-8 anni nel senso che ecco questo invece lui ti chiede lui ti chiede Tommaso ti chiede se per chi sta realizzando i primi documentari consigli di acquistarla o di noleggiarla forse tu ce l'avevi di proprietà perché comunque erano anche l'hai comprata una volta e te l'hai tenuta per tanti anni sì ai tempi ho fatto anche parecchi pezzi con una 6D per dire voglio dire una 6D che stiamo parlando dell'anteguerra per dire però questo dimostra che l'attrezzatura è importante ma non come spesso accade io ricordo io con la Rai ho iniziato sono entrato a lavorare con Rai 3 facendo un documentario che era tutto con un rendicam praticamente portatile e una GoPro cioè nel senso i primi filmati del viaggio realizzatore in Marocco metà dei filmati sono girati con un FZ300 Lumix che è una bridge compatta chiaro che poi la qualità si alza però uno deve anche poter iniziare a rompere il ghiaccio così si rompe il ghiaccio se comprarlo acquistarlo io devo essere sincero in questo momento farei questo ragionamento farei il ragionamento di è un'attrezzatura che ti serve tenere per tutto l'anno perché il tuo documentario richiede tutto l'anno e allora compratela e invece se sai già che le riprese del tuo documentario le fai in quattro giorni cinque giorni noleggiatela perché tanto non è quella che fa la differenza l'importante che possa girare a un 4K decente è bom se vuoi fare gli slow motion devi fare attenzione a capire gli slow motion ma ormai è tutto troppo talmente accessibile che non è più il ragionamento non è tanto se comprarlo cioè il ragionamento è quanto mi serve per fare il mio documentario e quello ti dà la risposta io non la ricomprerei per esempio la mia attrezzatura in questo momento cioè quando andiamo quando usciamo io, Max e Demi ormai sappiamo già cosa fare dove andare quando andare usiamo la camera poche volte all'anno probabilmente ci converebbe noleggiarla le volte che dobbiamo andare ci converebbe noleggiarla piuttosto che avere comprato un sacco di attrezzature in passato diverso è l'approccio del filmmaker che tutti i giorni deve lavorarci sì decisamente anche perché molto spesso magari ti manca quel pezzo di attrezzatura di cui hai bisogno e comunque devi andarlo a noleggiare comunque quindi a questo punto a meno che non lo usi tutti i giorni forse conviene appunto andare a noleggiarla tra l'altro abbiamo un paio di domande vedevo indietro ne sono arrivate un po' beh Dani scusa questa è una diciamo affermazione di Simo che secondo me è perfetta rispetto al tuo documentario è molto meglio investire i fixer locali i fixer sono i contatti locali le persone del luogo diciamo le guide che ti portano a fare il documentario esatto è molto più importante avere quella roba lì cioè che ti fa entrare in contatto con le comunità con le persone se posso fare un ultimo esempio proprio un secondo allora il perché sto portando avanti ovviamente altri documentari di cui uno è un prodotto che voglio fare e qui ritorniamo al market finale cioè per i festival quindi svincolato da qualsiasi ragione economica ok quindi lacrime e sangue giusto? perfetto e tratterà di animali selvatici il contesto delle europie alpi aerobie il problema è che io sono quasi tre mesi che sono esclusivamente sto facendo praticamente l'impiegato contatti persone esperte naturalisti biologi ai quali chiedi ti informi c'è la possibilità di portarmi in tale montagna a vedere quella tipologia di fiorellino per far capire l'entità io non ho ancora iniziato le riprese non ho ancora iniziato le riprese tuttora sto facendo il lavoro di mail e contatto ti presenti esponi il tuo progetto anche se a grandi linee a grandi linee non ci deve essere stai facendo un produttore benvenuto benvenuto a bordo e poi di tanto fai il documentarista la cosa che è più bella esatto è quello ma per far capire cioè alla fine la relazione è poi fondamentale senti quella persona esperta sul territorio perché ce ne sono parecchie e lì saranno loro stessi se tu sei bravo a trasmettere un po' del come dire dell'ardore che c'è dietro questa idea saranno loro che ti diranno Daniele guarda hai voglia di venire tutte persone disponibili ho trovato ma ragazzi ma ve lo giuro senza dire ti do addirittura un su non sto scherzando operatore subacqueo disponibile a fare riprese sott'acqua non vuole nulla non vuole nulla questo è il bello del nostro lavoro le persone appassionate a un progetto appassionate a una storia poi se ci credono ti danno una mano poi non sempre non sempre magari poi per il riequilibrio delle robe magari un altro per una cavolata ti chiede 2000 euro e dici ma come però perché tutto torna nella vita quindi meno male esattamente esattamente magari paga l'operatore subacqueo così l'altro scende un po' ragazzi direi che la nostra pausa pranzo con Daniele è praticamente finita se c'è qualcuno che ancora Max vedo che ha una domanda che devi fare devo fare una domanda un po' più personale visto che in questo documentario probabilmente anche nel successivo tu hai fatto il produttore il regista il direttore la fotografia l'operatore lo sceneggiatore il drone mi chiedevo il drone l'operatore drone tra tutti questi ruoli che hai ricoperto anzitutto è stato un massacro quindi complimenti però tra tutti questi ruoli che hai ricoperto qual è quello che ti è piaciuto di più e qual è quello che ti è piaciuto di meno allora piaciuto di più non è proprio un ruolo ma è banalmente non prendete cioè è proprio quell'interazione con le persone lì sul luogo cioè io quando sono lì e mi raccontano magari la loro vita è quell'aspetto riguardante più bello che c'è in quello che ho fatto e quello che mi ha ti dispiace quasi dover fare le riprese esatto esatto perché devi interrompere devi creare riconcentrarti su altro quali persone quando ti raccontano magari altri mondi altri che tu dici caspita sarebbe quest'ulteriore atmosfera di documentario quello che mi è piaciuto di meno il dronista perché è un po' ovviamente crea agitazione perché stai volando stai cioè vorrei delegare molto volentieri però è quella diciamo la parte meno un po' più durascosa è normale che sia così però probabilmente arriverai a un punto in cui sarà necessario dipende proprio dai ritmi che uno vuole dare alla propria produzione però quindi è una scelta totalmente soggettiva io per esempio come documentarista sono intanto delegato delegato sempre il mio montaggio quando riesco a Max perché non sono in grado di montare bene come lui e soprattutto nella metà del tempo lui mi fa il montaggio che io farei male è molto più lungo non lasciamo perdere la parte di audio ho scoperto l'audio grazie a Emiliano però è chiaro che mettere insieme queste cose ha un costo ha un impegno perché poi non è che vuol dire che li lasci tutto e fanno tutto cioè comunque è una roba che crea un team per cui con la squadra la squadra richiede lavoro come tutte le cose è chiaro che dipende proprio dai ritmi di produzione che uno decide di applicare è soggettivissima come cosa anche qua ci sarebbe il tema team o non team perché anche quando mi scontro quello è un tema molto grande sarebbe al momento per una live dovremmo parlare per altre settimane esatto bene abbiamo parlato in realtà forse la volta scorsa di questa cosa possiamo dire che dipende a grandi linee il discorso è che dipende dalla mole di lavoro se devi fare un documentario lo puoi gestire da solo se devi farne 20 in tre mesi allora c'è bisogno di un team perché rimane proprio impossibile lì dipende probabilmente più dalla mole poi mi correggerete voi che ne sapete sicuramente di più e poi attenzione che oltre alla mole c'è chiaramente dipende dal tuo documentario è ovvio che se devi avere un documentario per i cinema non puoi farlo da solo nel senso devi avere una squadra una casa di produzione ognuno quello che c'è ci vuole l'editor ci vuole il sound designer ci vuole il microfonista di presa diretta c'è tutta una tua roba è proprio una dipende dal tuo target per cui il tuo esempio è perfetto perché ti racconta vuoi fare il filmmaker che racconta il territorio che racconta i bei posti vuoi fare dei documentari che vanno bene per Ghe o per redazioni come di culturali come quelle di Ray 3 comunque programmi televisivi e non cinematografici il tuo approccio secondo me è stato vincente e ha funzionato infatti stai sbarcando col secondo documentario di cui ti auguro una gran buona fortuna e facci sapere quando vai in onda per farlo assolutamente sì 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 assolutamente e che sarà di nuovo comunque merito della travel da questo punto di vista è tanto esagerare no nel senso la parte no bisogna essere onesti la parte finale soprattutto nel primo anzi colgo l'occasione per ringraziarvi ulteriormente e vorrei dire una roba cioè trovare professionisti in questo ambito così di nicchia in relazione all'età giovane che avete è notevole è notevole non è da tutti assolutamente grazie però comunque il lavoro più grosso lo hai fatto tu Daniele hai fatto sì ho capito però lì sarà entrato in un come dire in un vicolo a dire poco cieco mi avete dato degli input notevoli su tutti i punti di vista assolutamente grazie Dani guarda siamo il progetto per quel motivo lì stiamo cercando di risolvere quel problema che noi abbiamo avuto quando abbiamo voluto iniziare non avevamo neanche una mezza bussola in questo momento stiamo cercando di fare non noi da bussola ma noi insieme tutta la community metti una bussola per chi vuole fare queste robe anche i corsi vostri sono di un certo pregio nel senso che proprio dal punto di vista delle cioè si esce da quel meccanismo di dire schiaccio i bottoni sul sul software di montaggio e applico diventa un po' più applicazione su un terreno pratico non so se ho reso cioè sono uno dei pochissimi corsi da professionista posso dire estremamente vali sì credo che quello sia ma è una credenza che abbiamo in realtà tutti cioè è l'unica via per insegnare qualcosa a qualcuno cioè spiegargli proprio come si fa nel pratico anche magari anticiparli già gli errori che potrebbe fare visto che tanto li abbiamo già anche fatti noi comunque quindi è proprio il modo che abbiamo noi per dare una mano a tutti di riuscire a cavarsela in questo mondo e riuscire a fare qualcosa come si è riuscito va bene cerchiamo cercate cercate Daniele Gangemi documentario Valbrembilla su Google vi si apre Geo vi si aprono un po' gli articoli sicuramente su Geo su Rayplay è disponibile vero? assolutamente basta andare nel programma nel programma di Geo su Rayplay lo si vede e prendete ispirazione quello è un documentario fatto da un filmmaker bravo che ci ha messo tanto cuore tanta passione ed è approdato in televisione e non copiate non copiate ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a presto Daniele buon appetito ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao ciao